Assalto alle mascherine protettive anche nelle farmacie di Piacenza, dove sono andate a ruba in seguito al panico innescato dal coronavirus. Siamo completamente senza da giorni, i fornitori sono sprovvisti. È stata una corsa alle mascherine, nonostante diversi esperti abbiano specificato che non servono a prevenire il contagio, ma viceversa non far diffondere il virus da parte di chi lo ha già contratto. Il panico, direi ingiustificato, secondo le notizie che ci hanno portato tutti i luminari che hanno parlato con tutti i mezzi di comunicazione. Molto probabilmente le prime immagini della Cina, dove tutti questi abitanti viaggiavano con la mascherina, ci hanno impressionato e abbiamo cercato di correre tutti ai ripari. Il presidente dell'Ordine Provinciale dei Farmacisti fa una raccomandazione ai cittadini. Ci sono già delle vendite al di fuori delle farmacie e dei negozi deputati a queste vendite, con una scarsissima cura per l'igiene, perché sono tutte mascherine che non sono protette, che non sono confezionate e che vengono toccate da tutte le mani di questi venditori. Io non la metterai certamente le mascherine del genere.